Secondo me con Giuliano ho giocato io con la Ezza, è stato un contrasto di gioco normale, lui ha cercato di proteggere la palla e in qualche modo ha perso un po' la protezione della palla e sono riuscito a portargli la via, secondo me senza farlo, poi in campo ci sono mille interpretazioni, quindi la mia interpretazione è questa. Secondo me non è che c'è differenza tra primo e secondo tempo, è l'inersa della partita, è normale che all'inizio le partite siano più bloccate, le squadre si studiano, noi abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi e gli episodi fanno la differenza, però siamo riusciti a gestirla e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Sì, è ancora presto perché è presto per dire chi arriverà e chi non arriverà, noi sappiamo che dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per crescere ancora perché possiamo crescere tanto e dobbiamo lavorare giorno dopo giorno senza pensare troppo e lavorare appunto per migliorare perché è solo tramite l'allenamento che poi si migliora.